Musica Comunità montana Vallo di Viano, ancora incerta la composizione della giunta, intanto Pagliarulo non ferma l'attività dell'Enter. Cento, l'aggressione a bordo di un bus, utente si scaglia contro passeggeri autisti, intervengono le forze dell'ordine. Metro del Mare, da sabato 20 luglio al vie collegamenti via mare, il cilento collegato con Costiera Maffitana e Salerno. Scuola, nuovi presidi per gli istituti accorpati a Sant'Arsegno, Cembalo, Tagliaferri, Passapolla. Teggiano, macchina organizzativa in moto per l'edizione 2024 di Alla Tavola della Principessa Costanza. Ben trovati con il nuovo appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo della comunità montana Vallo di Viano, che naviga ancora nell'incertezza per ciò che riguarda i nomi che andranno a comporre la nuova giunta. Ma in ogni caso l'ente montano non ferma la sua attività. Il presidente facente funzione Antonio Pagliarulo infatti sta programmando un incontro con i referenti dei diversi comuni afferenti alla comunità montana per la programmazione relativa all'utilizzo dei fondi FESR 2021-2027. Vediamo. I dubbi sulla nuova composizione della giunta comunitaria della comunità montana Vallo di Viano non possono essere motivo di freno per l'ente, in particolare in questi momenti delicati ed importanti finalizzati all'utilizzo di importanti risorse finanziarie per il rilancio del territorio. Mentre si attende ancora l'Assemblea che dovrà decretare il nuovo presidente della comunità montana, il cui nome sembra ancora incerto ma appare ristretto a due possibili candidati, ossia Vittorio Esposito, sindaco di Sanza ed attuale presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro, che dunque, se confermato, dovrebbe lasciare la guida dell'ente consortile, e Michele Di Candia, sindaco di Teggiano. Più complicata la scelta per la composizione della giunta che da quest'anno sarà composta da quattro assessori. Tra i nomi più probabili che potrebbero entrare in giunta, parevi sia il sindaco di Casalbuono, Attilio Romano, e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Si tratta al momento ancora di ipotesi e comunque restano ancora da assegnare altre due caselle. Intanto però il presidente facente funzioni, Antonio Pagliarulo, è al lavoro per evitare che l'incertezza sui nomi possa essere di ostacolo anche all'attività della comunità montana e alla programmazione relativa all'utilizzo di risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio e provenienti dai fondi europei per lo sviluppo regionale, che vede l'ente montano, grazie ad un intenso lavoro portato avanti in questi ultimi anni da Pagliarulo nel suo ruolo di assessore, beneficiario di circa 11 milioni e 200 mila euro, che richiedono però ora un'attenta programmazione per il loro utilizzo. E mentre la politica lavora alla scelta del presidente e degli assessori della comunità montana, i sindaci e i referenti dell'ente e dei 15 comuni dovranno comunque riunirsi nei prossimi giorni per discutere della prossima programmazione dei fondi FESL 2021-2027, con particolare riferimento al settore dedicato al rilancio turistico. Intanto sono arrivate le delibere di consiglio da parte di tutti i comuni afferenti all'ente montano per l'approvazione dello schema di convenzione per l'attuazione della strategia delle aree interne 2021-2027. Anche il Comune di Sant'Arsenio, infatti, lo scorso 26 giugno, ha approvato all'unanimità lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei fondi. La cronaca è stato necessario ricorrere all'utilizzo del taser per fermare una persona che salita a bordo di un bus di collegamento tra Centola e Palinuro si è scagliato in maniera violenta contro i passeggeri e contro l'autista, oltre a provocare numerosi danni anche al mezzo. Grazie alla prontezza di intervento dell'autista è stato possibile evitare il peggio. È stato necessario intervenire con un taser per fermare l'utente che ha aggredito a bordo di un mezzo dell'autolinia infante tra Centola e Palinuro prima i passeggeri e successivamente si è scagliato contro il conducente. Le foto di come è stato ridotto il mezzo parlano chiaro della violenza con la quale l'uomo si è scagliato contro uomini e mezzi. L'incidente è avvenuto alla fermata dell'autobus dove l'utente è salito senza motivo apparente si è aggredito da prime passeggeri e successivamente si è scagliato contro il conducente. Grazie alla prontezza e alla professionalità dell'autista è stato possibile evitare i conseguenzi peggiori. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha poi contribuito a ristabilire la calma, immobilizzando l'aggressore e garantendo la sicurezza di tutti i presenti. La Filt CGL tramite il segretario Gerardo Arpino è però nuovamente intervenuta sull'episodio esprimendo condanna ferma contro ogni violenza e ribadendo l'importanza di garantire condizioni di lavoro sicure per tutti gli operatori del settore trasporti. È stata un'aggressione brutale prima nei confronti di alcuni viaggiatori e poi con un estintore si è scagliato nei confronti del conducente. Grazie anche alla bravura del conducente che ha tentato da subito di fermarlo, sono intervenute successivamente le forze dell'ordine che per placare la furia di questi aggressori hanno dovuto addirittura utilizzare i taser. Noi come organizzazione sindacale condanniamo aspramente queste aggressioni anche perché va ricordato che la sicurezza nei trasporti e nel mondo del lavoro in particolare è un indice di civiltà e pertanto la sicurezza deve essere vista come una necessità e non può essere messa da parte e valutata come un costo. Nell'ultimo periodo stanno aumentando sempre di più a macchia d'olio partendo dalla costiera Amalfitana, ora arrivando alla costiera Cilentana e non dimenticando il territorio salernitano. Abbiamo richiesto alla Prefettura di Salerno di mettere in atto tutto quello che nei tavoli tecnici sono stati richiamati, quindi la blindatura del posto di guida, l'attivazione delle telecamere, anche punti particolari all'interno del territorio con l'utilizzo delle forze dell'ordine come deterrente per evitare queste aggressioni. Abbiamo riscritto anche oggi alla Prefettura e speriamo che quanto prima ci sia concretezza per saturare questa annosa polemica e soprattutto questo annoso problema. Sono richieste che facciamo da tempo, alcune risposte sono arrivate come ad esempio l'utilizzo delle pettorine per i verificatori come deterrente, infatti soprattutto sul territorio salernitano le aggressioni sono diminuite tanto, però sicuramente è una risposta tampone, una risposta che non basta e c'è la necessità di mettere a terra tutto quello che avevamo all'interno del capitolato fatto in Prefettura. Saranno due le linee del metro del mare che toccheranno il Cilento. La partenza ufficiale del servizio è prevista per sabato prossimo 20 luglio e secondo quanto assicurato dall'onorevole Cascone sarà attiva fino a settembre. Vediamo. Sembra davvero prossima la partenza del metro del mare che vedrà il Cilento collegato con la costiera Amalfitana e con Salerno. Secondo quanto emerge infatti, pare che sia stata fissata definitivamente a sabato prossimo 20 luglio la partenza del servizio di collegamento via mare con il Cilento che da diversi anni viene ritenuto fondamentale anche per il rilancio del settore turistico balneare dell'area Parco. Pare infatti sia arrivato l'ok dalla regione per dare il via ai collegamenti di Alicost con il Cilento anche se, contrariamente a quanto accaduto negli anni passati, resteranno fuori dalla linea i collegamenti con Napoli e Capri. I collegamenti previsti saranno infatti solo Salerno, Costiera Amalfitana e Cilento con due linee distinte. La linea 1 metterà in collegamento nei fini settimana il molo Manfredi del porto di Salerno con i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro e Camerota. La linea 2 invece, attiva dal lunedì al venerdì, prevede collegamenti tra Salerno, Amalfi, Positano, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli. La data di partenza sembra ormai definita e non dovrebbero esserci ulteriori sorprese o ritardi nell'attivazione del servizio, anche se, va sottolineato, al momento sono ancora in corso gli ultimi sopralluoghi per le verifiche sulle tratte e per accertarsi che non vi siano ostacoli che possano influire sulla qualità del servizio offerto. Per ciò che riguarda l'acquisto dei biglietti per usufruire del collegamento via mare, sarà possibile effettuarlo direttamente sul sito Alicost. Un servizio atteso e che ha tenuto con il fiato sospeso le località balneari del Cilento, che puntano sul metro del mare anche per poter prevedere una maggiore presenza di turisti. Sul servizio in fase di attivazione è intervenuto anche il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, che ha comunque manifestato il suo dispiacere per la tardiva partenza. Finalmente, dichiara Cascone, a breve partirà il servizio. Abbiamo fatto il possibile per poter partire in anticipo quest'anno e ci dispiace per il ritardo. Ora però il servizio sarà finalmente attivo e abbiamo previsto anche un prolungamento dell'attività di collegamento via mare fino a settembre, ragion per cui, per i turisti che frequentano il nostro territorio, ci saranno più possibilità per muoversi tra le costiere cilentana e amalfitana. Parliamo ora di scuola. Sono arrivate dall'ufficio scolastico regionale le nomine dei nuovi presidi, in particolare per quanto riguarda gli istituti che sono stati soggetti ad accorpamento a seguito del ridimensionamento scolastico. Per ciò che riguarda il Vallo di Diano, un voto nuovo ed un cambio. Il direttore generale dell'ufficio scolastico per il Salernitano, in ogni caso, ha puntato sulle donne. Vediamo. Il prossimo anno scolastico 2024-2025 vedrà molti istituti scolastici alle prese con cambiamenti di grande rilevanza, alla luce anche degli accorpamenti stabiliti sulla base del ridimensionamento scolastico. Nelle scorse ore, intanto, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra, ha ufficializzato le nomine dei presidi che dovranno dunque guidare i diversi istituti scolastici per il prossimo anno, compresi anche i dirigenti che per la prima volta saranno alle prese con scuole nate dall'accorpamento. Per Salerno e provincia sono ben 29 le nomine di dirigenti scolastici effettuati dal direttore Acerra, che da questo punto di vista ha dimostrato di preferire le donne anche per guidare istituti ritenuti difficili o comunque posti nelle aree più periferiche. Sono ben 21 le donne chiamate a dirigere gli istituti scolastici salernitani e per ciò che riguarda le aree più a sud della provincia di Salerno, Vincenzo Rendina è l'unico dirigente scolastico uomo assegnato alla guida dell'Istituto Comprensivo Palatucci di Campagna. A seguito di accorpamento, novità in arrivo anche in alcune scuole del Vallo di Diano ed in particolare all'Istituto Sacco, che è diventato omnicomprensivo, comprendendo quindi sia le scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, è l'Istituto Omnicomprensivo di Polla. Due dirigenti scolastici in arrivo per i due istituti soggetti ad accorpamento. Resta nel Vallo di Diano la preside dell'Istituto Sacco, Carmela Tagliaferri, che ha sostituito la precedente Rosaria Murano nell'anno scolastico 2023-2024. La professoressa Tagliaferri però lascerà l'Istituto Sacco per passare alla guida dell'Istituto Omnicomprensivo di Polla. Per dirigere l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio è stata chiamata la professoressa Antonietta Cembalo, proveniente dall'Istituto Eleonora Pimentel Fonseca di Ponte Cagnano. Una donna anche per il nuovo Omnicomprensivo di Rocca d'Aspide, che sarà guidato da Rita Brenca. Rosangela Lardo è la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Buccino, mentre all'Istituto Omnicomprensivo di Contursi Terme arriverà Rosangela Lardo e l'Istituto Comprensivo Virgilio Gonzaga di Eboli sarà diretto da Annalisa Frigenti. E restiamo in tema scuola. Gli studenti degli istituti comprensivi Sala Consilina Viscigliette e Giovanni Falcone di Sassano hanno preso parte a tante attività nel corso dell'anno scolastico nell'ambito di due diversi progetti di scuola viva. Vediamo. Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sala Consilina Viscigliette e dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano hanno preso parte nel corso dell'anno scolastico 2023-24 a diverse attività promosse in occasione di due importanti progetti realizzati nell'ambito del programma della Regione Campagna Scuola Viva. Nei giorni scorsi si sono svolte le giornate conclusive di entrambi i progetti con la consegna degli attestati ai ragazzi partecipanti. In particolare il progetto realizzato dall'Istituto Comprensivo Sala Consilina Viscigliette si intitola A Scuola Liberamente ed è nato con l'obiettivo di supportare tutti gli attori della comunità scolastica e di promuovere il benessere psichico, fisico e sociale della comunità educativa e territoriale. È stato caratterizzato da cinque moduli partecipo Ergo Sum, musica e spazio, lo sport si racconta con la storia, trekking nel parco e sportivi si rinasce giocando con il karate. La giornata conclusiva si è svolta presso l'Auditorium Cirillo ad Atena Lucana Scalo. Al Cineteatro Totò a Sassano invece si è tenuto l'incontro conclusivo del progetto realizzato dall'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Sassano denominato Ricominciamo da qui. Il progetto è nato con l'obiettivo di accrescere il potenziale degli studenti partecipanti partendo dalla consapevolezza che la scuola deve svolgere un ruolo centrale al fine di fornire agli studenti gli strumenti necessari per elevare la propria persona e per superare gli ostacoli del territorio. È stato suddiviso in cinque moduli Laboratorio Artistico Fare per Imparare Musica in Movimento A Piedi Nudi Make Your Way Around the World A Scuola di Legalità Nel corso delle due giornate conclusive per entrambe i progetti alla presenza di docenti e tutor e della dirigente scolastica Patrizia Giovanna Pagano sono state quindi illustrate le attività dei vari moduli e consegnati gli attestati agli alunni diversi partner che hanno preso parte alla realizzazione dei due progetti A Scuola Liberamente ha visto il sostegno di IESAC, FOSAPA, Associazione Astro Campagna, ASD Heracles e Cooperativa Ruffium Hanno collaborato a Ricominciamo da qui la diocesi di Tegiano Policastro, Cooperativa Paradosis, FOSAPA, Biblioteca Comunale di Sala Consilina, ASD Heracles, Associazione La Vite è un Ciclo e Cooperativa Ecomuseo, Valle delle Orchidee e Antiche Coltivazioni E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco Quando Luca esce per farlo addormentare noi ci siamo Ci siamo nei progetti di Marta e Andrea Ci siamo in ogni storia che inizia C'eravamo quando Lara ha aperto il suo negozio quando Dario si è concesso una pausa e anche al primo appuntamento di Anna nei giorni indimenticabili e in quelli no noi ci siamo Unipolsaia Assicurazione, Agenzia Unisicura Piazza di Torto, 84035 Polla Da oggi puoi pagare tutte le tue polizze in comoderate mensili a tasso zero senza anticipare nulla si inizia a pagare dal mese successivo Bentornati con la seconda parte del nostro TG Andiamo a Teggiano dove la locale Proloco presieduta da Biagio Matera è in pieno fermento per l'organizzazione della 29esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza la storica manifestazione che nel corso del tempo è stata sempre più un evento di punta di tutto il Vallo di Diano anche per la capacità di attrarre turisti provenienti da ogni parte d'Italia e non solo In questi giorni la macchina organizzativa è in pieno fermento ed è anche partita la raccolta delle adesioni per la partecipazione al corteo storico della tre giorni dell'11, 12 e 13 agosto prossimi La bellezza e l'attrattività dell'evento che nonostante il passare degli anni riesce tutt'oggi a raccogliere milioni di visitatori è frutto anche di un intenso lavoro che gli organizzatori della Proloco di Teggiano portano avanti con passione e dedizione certi anche del valore che l'evento assume nella capacità di valorizzazione non solo della storia di Teggiano ma anche della sua cultura, l'arte, lo spettacolo e l'enogastronomia un'atmosfera straordinaria quella che si vive nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto a Teggiano visitando le antiche chiese gli storici palazzi, musei e opere d'arte arricchito poi dal corteo storico che può vantare oltre 500 figuranti compresi anche sbandieratori e trombettieri di musiche antiche, di menestrelli e musici ducati, tarì e tornesi e poi ci sono le taverne con le gustosissime pietanze medievali un appuntamento imperdibile che a partire da domenica 11 agosto farà tornare indietro nel tempo la città di Teggiano e quanti la visiteranno nella tre giorni di alla tavola della principessa Costanza ma ascoltiamo le parole del presidente della Proloco di Teggiano Biagio Matera Siamo in una fase avanzata ovviamente noi da tempo siamo lavorando su questa manifestazione e quindi ancora manca qualcosa qualche tassello da comporre ma siamo sicuramente a buon punto concluderemo le nostre iniziative programmatiche a breve e quindi poi più in là daremo anche dei dettagli su quelle che sono le novità e il programma che abbiamo immaginato per questa ventinovesima edizione ci aspettiamo sempre che la cosa possa essere gradita perché ogni anno tutti aspettano grandi cose grandi novità da questa manifestazione e noi cerchiamo nei limiti del possibile di migliorare perché poi non è semplice migliorare una manifestazione che oramai ha avuto già un grande successo e noi cerchiamo di migliorare e se non altro di mantenere gli standard degli anni precedenti e quindi ci aspettiamo che possa essere anche quest'anno apprezzata come sempre la manifestazione possa avere tanta partecipazione e tanto successo possa essere gradita particolarmente a chi partecipa alla tavola della principessa Costanza e al DNA vertegianese per cui tutti partecipano con entusiasmo i soci ma non solo i soci e quindi partecipando tutti sentono loro l'iniziativa e quindi questa è la ragione del successo la grande partecipazione l'amore che si ha per questo e questo credo, spero che anche quest'anno sarà così e quindi continuiamo su questa strada abbiamo ogni anno delle richieste oppure di partecipazione anche da lontano ci chiedono di voler partecipare ripeto in maniera diversa perché chi è lontano può soltanto assistere o partecipare attraverso i social e quindi questa oramai è una manifestazione che è conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo i tre giorni di agosto sono un appuntamento fisso quindi 11, 12 e 13 agosto già invito tutti a partecipare a questa bella manifestazione vi aspetto 11, 12 e 13 agosto a te già e ci spostiamo ora a Polla la cultura resta un baluardo per le attività dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Loviso che prosegue con iniziative finalizzate a stimolare e incuriosire verso il mondo della lettura continua la rassegna incontri in biblioteca Summer Edition che grazie alla collaborazione con varie associazioni punta anche alla valorizzazione e promozione della storia e delle bellezze di Polla un calendario fitto di incontri quello proposto a Polla è finalizzato a sensibilizzare sul valore della lettura e dei libri la città di Polla da anni ormai tra i centri più impegnati in ambito culturale e soprattutto nella valorizzazione della lettura continua con la programmazione di eventi culturali di promozione dei libri eventi che non si svolgono dunque solo in inverno ma che proseguono anche in estate potendo contare sullo spazio all'aperto della biblioteca comunale intitolata il professor Vincenzo Curcio su proposta del presidente del consiglio Giovanni Corleto infatti dallo scorso 11 luglio sono partiti gli incontri culturali nell'ambito del progetto incontri in biblioteca Summer Edition 2024 giunta la quarta edizione e che potrà contare anche quest'anno su appuntamenti di grande spessore e valore la rassegna incontri biblioteca Summer Edition quarto spiegano dall'amministrazione comunale si incentrerà anche quest'anno sul dibattito e sul confronto avente ad oggetto volumi di recente pubblicazione presentati e commentati dagli stessi autori con particolare attenzione per gli scrittori locali inoltre al fine di promuovere e di valorizzare attraverso il teatro il ricco patrimonio storico-artistico della nostra comunità nell'ambito della rassegna incontri in biblioteca verrà dedicato ampio spazio alle letture al tramonto ideate e organizzate dall'Associazione Culturale Artificio sin dal 2022 appuntamenti di reading animato nei luoghi storici più suggestivi di Polla per far conoscere e scoprire a turisti e locali alcuni luoghi della nostra cittadina nella magica atmosfera del tramonto numerosi gli appuntamenti previsti nell'ambito della rassegna con i prossimi quattro eventi culturali che si terranno nei giorni del 19 luglio con il libro di Antonio Giordano La zampogna oltre la tradizione 21 luglio l'evento letture al tramonto nel centro storico il 24 luglio la presentazione del libro di Piera Carlo Magno Ovunque andrò e il 9 agosto sarà presentato il libro di Giovanni Bracco Madrigali e altre poesie d'amore altri appuntamenti saranno resi noti nelle prossime settimane e con questo servizio è tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e vi ringrazio